eccoci siamo in via donnaver in questo bell'appartamento di cinque vani molto grande siamo intorno ai 65 metri quadri 70 anche questo l'ingresso un ingresso ampio con la dispensa il mobile si trova a quarto piano quindi in piano alto qua procediamo abbiamo questo disimpegno si piano il quinto abbiamo questo disimpegno qui abbiamo il bagno con la vasca da bagno quindi comodo a molte parti originali dell'immobile diamo nel corridoio qui troviamo subito la cucina una cucina grande abitabile poi c'è anche la possibilità come avete visto nell'annuncio di avere con un sovrapprezzo a parte anche la cucina arredata qui abbiamo l'esposizione sul poggiolo e su tutto il quartiere come potete vedere cucina subito dopo troviamo il soggiorno potrebbe anche essere una camera da letto visto le grandi dimensioni della cucina sempre con la stessa esposizione gli infisi sono tutti in doppio vetro soggiorno e di qua troviamo l'ultima stanza che è la camera da letto molto molto grande che ha sempre la stessa posizione quindi verso sud quindi ricapitolando abbiamo questo cinque vani grandi circa 70 metri che viene proposto in locazione tutto vuoto con una grande camera da letto il soggiorno la cucina il bagno l'ingresso e esposto tutto sud con questa meravigliosa poggiolata siamo nella parte alta di via donaver dove si può apprezzare tutto tutto quartiere san fruttuoso marassi anche righi addirittura fino a dal baro a quinto e abbiamo finito